Ragazzi e benvenuti a questo nuovo video dove oggi giocheremo a Clash Royale Come potete vedere da qui Combattendo nell'arena Ho trovato un baule magico Che ovviamente ho messo a fare subito Però, c'è un però Ecco, lo apriremo dopo aver fatto due partite Se vinciamo tutte e due le partite lo potremmo aprire Invece, se perdiamo tutte e due le partite dovremmo aprire questo qua d'argento Questo è il mio mazzo Il mazzo quello lì reale, se mi ricordo se si chiama così Però a posto del cannone a rotello ho messo la strega perché mi sembra meglio Beh, io inizierei... Ah, faccio un salutone al clan Se vi volete scrivere questo nome virale Che l'ha creato un mio amico Ehm... per ora siamo soli in tre Come potete vedere qua Ehm... se volete scrivere Io non ve lo impedisco Beh, iniziamo Sì Eh... se ce la facciamo per domani Perfetto Vediamo cosa mette lui Io andrei di cavaliere Pam, pam Vorrei vedere cosa fa lui Tutte e due con la carica Amato Beh, nessun problema Poi se c'è... Cavolo, il gran cavaliere Vai strega Pensaci tu È vero che il gran cavaliere si butta Strega Evoca i scheletri Lui è piazzato un'altra strega Io piazzo un principe nero Guardie Io uso sempre le guardie come difesa Questo me l'ha consigliato un mio amico È un bel problema che lui Alla strega E ci fa un bel po' di donne Di noi Il gran cavaliere Principe nero Principe nero Pensaci tu No Curatevi Strega Cavaliere Principe nero Io cerco di difendermi con qualunque cosa Però questo è troppo forte Eh no Non ce la facciamo Diciamo che abbiamo di più Più di un tentativo No Con il principe nero È impossibile Veramente Eh Con il principe Con il gran cavaliere È veramente impossibile Contrastarlo Alla vita infinita Questa partita Era solo per riscaldamento Spero che l'apriamo Oh Quando trovate quelli che non hanno un clan Sono facili da battere Per me È sempre Ha sempre funzionato così Io vado di così Maial Royale Tac Tac Strega vai Shotta il drago Poi vado di cavaliere I sgherri non sono un problema per la strega Però quei spiritelli Fuoco Hanno danneggiato un po' Il mio cavaliere Il domatore Ma non è che sto giocando contro Grax Grax Lo youtuber che usa sempre il domatore Su Clash Royale Può darsi Vai principe nero No Un altro botto E ce lo potevo fare Allora Io vado di strega Poi piazzo l'estrattore Così Come dire Non ce l'abbiamo Vai principe nero Distruggi tutto Strega vai Tac Facciamo così Così La valchiria ci va giù Senza alcun problema Guardi Andate Adesso E ho vinto Una vinta Ce ne manca solo un'altra No Apri una corona Che poi non sto sentendo la mosca di Clash Royale Che cosa sta succedendo Non lo sento Non lo sento Vabbè Facciamo quest'altra E proviamo Adesso Ce ne manca solo una Leo Leo Ciao Leo Uh Bello L'arco X Però Secondo me L'hai un po' sprecato Leo Mi è piaciuto di più Quel draghezzo Interessante Però Ci va giù Senza alcun problema La strega mia Ci va giù Da quanto Par Perfetto Però il principe Leo Come puoi vedere Ti fa un bel po' di danni Sotto torre Per poco Non te la distruggeva Mamma mia Dove Voglio fare strega contro stregone 112 La torre E lui Non me l'ha proprio colpita Uh Bella mossa Non ma dico Bella mossa Bravo Però nessun Problema Lo scheletrino Lo scheletrino Gli ha buttato giù La torre Che vergogna No cavolo Nell'estrattore Nel frattempo Mi do L'elisir Ah Che poi è uscita Anche la nuova carta Ehm Si chiamava Golem Di elisir Se mi ricordo Bene Io mi ricordo Golem di elisir E se lo distruggi Ti da Elisir in più Però deve ancora uscire Io la prima parte Del concorso L'ho finita Poi la seconda parte No L'ho persa E al frattempo Abbiamo vinto Perfetto 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 Allora Ci siamo Perfetto Però non tante Però non tante Che tra queste Sono leggendarie Che ho sbloccato Tra le arene Però le devo ancora trovare Come vorrei avere la scintilla L'arciere magico Amato Bene Uno che mi chiama Non fate caso Andiamo con i baulle Della corona 903 di oro Due gemme Ovviamente Le da sempre Le gemme Palla di neve Gigante Re Clute Royal Queste sono buone Maiali Royal Queste li uso E C'è la epica Ma la leggendaria Non c'è Ogni volta Così Non le dovrebbero Dare le gemme Ma io Siamo arrivati al momento Lasciate un mi piace Iscrivetevi Perché qui troveremo Una leggendaria 1216 euro Che sono un bel po' di oro Cavolo Scusate se mo' vedete un po' oscurato Ma L'ho dovuto fare Proxia carta Stregone Comune Rara Nooo Dai Ci ho sperato Ci ho sperato Cavolo Ci ho sperato Ci ho sperato Rocco Nooo C'è All'ultima E' uscita la epica Mi ho detto Ma Do Qui trovo la nuova Qui trovo Una leggendaria nuova Invece Mi so' dimenticato Che devono uscire Tre epiche Potenziamoci L'estrattore E' uscita la epica E' uscita la epica Al clan Di clash royale Questo qua Del mio amico Lo potete fare Spero che il video vi sia piaciuto Alla prossima Ciao Ciao